Chi è William Bisacchi? Chi è la Bisacchi? La Bisacchi è un'azienda che ha 45 anni di storia, un'azienda che ha servito 3.000 clienti, ha installato più di 35.000 finestre. William Bisacchi è il creatore del sistema Bisacchi e da 30 anni si occupa di infissi. Ho studiato a Bozzaro da Casa Clima, che è il riferimento per l'efficienza energetica. Scrivo per delle riviste del settore come Showroom e Edilizia Seramenti. Sono socio dell'Unione Nazionale Costruttore di Seramenti, Unicmi. e tantissime, tantissime altre cose. In sostanza sono cresciuto a pane e finestra quando ero un ragazzino. Non faccio solo teoria, perché sono nato appunto pane e finestra in officina, quindi ho costruito le finestre da zero e sono andato a montarle in cantiere. Ancora oggi, se volessi, sarei in grado di costruire una finestra e di andarla a posare. Magari ci metteremo più di tempo, perché ormai lo faccio poco, però sono incapace di farlo e questa fa tutta la differenza del mondo. Cosa mi rende diverso da tutti gli altri? Prima di tutto le competenze tecniche e professionali. La storia, quindi la capacità di costruire una finestra e di montarla. Non essere un venditore, ma essere un tecnico e un consulente. Tutti ti daranno un prezzo, ma pochi ti daranno delle soluzioni, dei consigli e della consulenza. Un venditore, prima cosa di costruire una finestra e di costruire una tutta. che faremo un' montato anche di costruire una finestra, ma fosse un'ottima, ma l'unnicato, ma la la celda, ma l'unnicato, ma l'unnicato, ma l'unnicato, ma l'unnicato si sono un'ottima. Grazie a tutti